Quadrato, quadrato un tiro, no, quadrato, 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 il raddoppio della Juventus. Quadrato, è un gol strepitoso, ho alzato la testa, non l'ho visto, ho cercato di tirare una bomba, la settimana è uscita il gol. Quadrato, è a fare il rete, la Juventus è in vantaggio, un gol fantastico di Quadrato.